Il Palermo è stato uno dei club europei che negli ultimi dieci anni ha realizzato maggiori plusvalenze. Quali sono state le voragini nelle voci di bilancio che hanno annullato queste voci positive? Io ho sempre sottolineato come un club come il Palermo per chiudere il bilancio in pareggio deve fare plusvalenze. Come? L'Udinese, il Chievo, la Taranta, la Sampdoria, il General, il Torino e il Verona e tutte le medie di Serie A. Anche il Napoli, che solo con Cavani e Higuain ha incassato 170 milioni, ne aveva bisogno per coprire le uscite di bilancio. I nostri bilanci sono a disposizione e non ci sono voragini, ma costi eccessivi rispetto ai ricavi. Da coprire con plusvalenze o capitale degli azionisti come fatto sino ad oggi. Ecco il perché dei miei soldi messi nel Palermo. Se il Palermo ha un bilancio con i giocatori che i tifosi vogliono e che io gli ho dato, con 40 milioni di stipendi e altre spese per altri 40 milioni, e ne incassi 65 e ha 15 di perdita, io, come ho fatto, devo mettere 15 milioni all'anno dentro. E naturalmente se non ci fossero le plusvalenze, invece di 15 dovrei mettere niente di più. Le plusvalenze a una società come il Palermo e alle altre società nel calcio servono solo a questo. Non c'è nessuna società di calcio che guadagna in Italia, neanche una. E' già un grande risultato se va in pareggio. Berlusconi ha lasciato il Milan con 400 milioni di debito, o Moratti 600 milioni di debito, 700, che poi ha coperto con i soldi loro oppure con chi l'ha comprato. Per cui sono tutte notizie fasulle che vanno a dire che con le plusvalenze, sì, poi ci sono le minusvalenze, perché mi ha fatto vedere la mia segretaria che ci sono le plusvalenze e le minusvalenze in tutte queste cose qui. Quando, ecco qua, totale, in foglia, in 15 anni di gestione zamparina è stato avuto ricavi per Euro 1 miliardo 0,24, costi per Euro 1 miliardo 114, di cui, allora, di quel miliardo 0,24 plusvalenze per 272 milioni, di quel miliardo 114, minusvalenze per 47 milioni, ammortamenti per Euro 290 milioni e costi stipendi per 491 milioni, perdita complessiva 69 milioni, finanziamenti complessivi 62 milioni, anticipazioni complessive 34 milioni, pagato imposte per 277 milioni. Questo è il bilancio. E allora, ecco dove sono andate le plusvalenze. Se non avessi avuto quelle plusvalenze lì, invece avessi perso 69 milioni, avessi perso 269. Come fanno a sopravvivere, a benfigurare, quelle società che non hanno le stesse plusvalenze del Palermo e che percepiscono diritti televisivi inferiori? Allora, prima di tutto, oggi non percepiscono diritti televisivi inferiori, ma siamo più o meno tutti alienati. Anche perché la posizione di classifica è molto importante. Purtroppo il Palermo negli ultimi campionati erano nelle ultime 10. Ma sopravvivono con costi di gestione, costi di stipendi di giocatori e staff molto più bassi e con le plusvalenze anche loro. È chiaro che se il Chievo ha 20 milioni di stipendi e il Palermo 40, il Palermo ha bisogno di fare 20 milioni di plusvalenze in più. Il Chievo non ne ha bisogno. Questa è la differenza. Poi ha un presidente che è tutto il giorno e tutti i giorni presente in società. Quello che manca è Palermo. Io purtroppo sono lontano da Palermo e secondo me qui in futuro servirà che il presidente o un Galliano o un Marotta siano qui tutti i giorni vicino alla squadra. Perché dopo la finale di Coppa Italia del 2011 contro l'Inter ha lentamente smantellato una splendida realtà del calcio italiano come il Palermo? No, dopo la finale di Coppa Italia non ho smantellato la società. Ho sempre detto che data la crisi in corso io e il mio gruppo non potevamo più investire. Ma in attesa di nuova proprietà che vogliono investire e sopravvivere. È quello che stiamo facendo. Stiamo sopravvivendo con grandi sacrifici perché il mio gruppo non può più mettere dentro, accoprire delle perdite che non ha più la liquidità come tantissimi imprenditori italiani. Io ho fatto i nomi di Berlusconi e di Moratti prima. Per cui, voglio dire, non è che siano… è una condizione generale. Presidente, lei dice che nei mercati, nei rioni popolari e per le strade di Palermo lei è amato. Verrebbe con noi a fare un giro per dimostrarcelo? Ma ci sono già venuto oggi io dall'aeroporto qui. La Daniela mi ha detto ma devo mandare a prendere sotto l'aeroporto? No, no, no. Io vengo con una macchina normale. Non ho mica paura di camminare per Palermo. Vede, io non vivo a Palermo ma incontro palermitani in Italia e in Europa che mi rispettano per quello che ho fatto e che sto facendo. Come penso della Palermo silenziora che mi rispetti per quello che ho fatto e che sto facendo. Che non è quella dei social. Ha detto, Wicani più forte di Sorrentino, Giurgevic più forte di Belotti, Cassini il nuovo di Bala, Bertolo più forte di Pastore, Balog nuovo Cavani. È sicuro di capirne di calcio? Posso aver detto frasi per dare coraggio e spirito al giocatore, sicuramente. Chiaro che Wicani non si è dimostrato come Sorrentino, Diurgevic non si è dimostrato come Belotti, mai detto che Cassini era di Bala se non per l'età. Anche perché di Bala l'ho preso io. Bertolo è arrivato insieme a Pastore in ruoli diversi. Balog è una promessa inespressa ad oggi, anche perché sempre infortunati. Ma le chiedo, chi ha preso Sorrentino, Belotti, Di Bala, Pastore e Cavani? Si ricordi i fischi riservati a Cavani, Pastore e Di Bala l'anno del loro arrivo? E siccome mi chiede se capisco di calcio, guarda la mia storia a Venezia e a Palermo. Perché il Palermo è passato? Da grandi campioni a giocatori di basso livello. Da uno stadio tutto esaurito ad uno vuoto. Da un campionato di vertice in serie A alla serie B. Perché ora è la sua dimensione di questo momento, la dimensione che è data dal bilancio del Palermo. Il Napoli in serie A incassa 160-180 milioni, il Palermo in serie A 50 milioni. Questa è la differenza. È la stessa differenza che fa notare Sarri e Le Laurenti con la Juventus. Dice, noi incassiamo 180 e voi 400. Come facciamo a fare lo stesso campionato? Questa è una risposta. E noi siamo nello stesso campionato. E naturalmente oggi il bilancio del Palermo è allineato fra le ultime dieci, non fra le prime dieci. Presidente Zamparini, come mai spesso paga provvigioni milionarie per l'acquisto di calciatori a intermediari che spesso le appioppano dei bidoni? Ma anche di Di Vala, anche di Pastore. Si è dimenticato di Vala e Pastore. Sape che si è dimenticato? Perché Di Vala l'ho venduto a 40 e Pastore a 42. Altrimenti sarei un fesso più grande che con Vala. Il problema delle commissioni è generale e io l'ho sempre combattuto. Ma oggi sul mercato comandano i procuratori e i bidoni per i costi sono stati quei giocatori che con stipendi alti nulla hanno dato. È chiaro che non sempre indovini e ci sono giocatori con costo alto che nulla hanno dato. Vedi Raggi, Cassini, fatto con lui il procuratore di Di Vala e altri. Ma io nel bene e nel male mi avvalgo del consiglio del miglior direttore sportivo di turno, più consulenti come Di Martio, Kukovic, Perlest, Europa e qualcun altro. Perché società con meno o uguali introiti sono stabilmente in Serie A e il Palermo invece ha subito due retrocessioni umilianti nonostante vendite milionarie che altri club si sognano di avere? La risposta è io non so quando lei è nato ma nella storia del Palermo nessuno ha fatto tanti campionati in A come me senza aiuto da nessuno, specialmente da Palermo. Ci può spiegare come intende utilizzare il paracadute e la congrua cifra incassata dalle cessioni? Quantifichi i soldi incassati e spesi per la stagione in corso. Vede, noi quest'anno incasseremo 25 milioni di paracadute più 10 milioni di accessioni da Cruz Valencia che sommate alle altre entrate faranno un totale di 42 milioni perché le entrate della Serie B sono molto basse. Gli assoluti percorsi di gestione più ammortamenti giocatori saranno di 46 milioni e questi sono i bilanci che ho preparato che vi ho sempre invitato quando volete andare dalla Daniele a farveli dare. Sono i bilanci di gestione per cui ecco dove siamo andati il paracadute. Il paracadute l'abbiamo inventato perché quando ho sendi dalla Serie A e il Palermo quest'anno è sceso ha stipendi di giocatori e tecniche 25 milioni. Il Cesena che fa lo stesso campionato ce ne ha per 4. Come fa a coprirli se non ci fossero i paracadute? Punto di domanda. Chi ha deciso di mettere fuori rosa al giocatore Alino Diamanti visto che l'allenatore Tedino ha lasciato intendere che non è stata una scelta da imputare a lui? Allora, Diamanti è stato preso da me l'anno scorso sul consiglio di Fagiano è avvalato da me Diamanti mi sembra abbia realizzato una rete l'anno scorso un gol ha fatto ed è una punta e negli anni precedenti altri due gol Diamanti sarà un costo alto per noi anche se andrà via la decisione sulla squadra è presa da me Tedino e Lupo condividendo insieme ogni decisione tutto quello che abbiamo fatto quest'anno è stato condiviso in tre sempre e anche oggi avremo una riunione ancora per finire il mercato la decisione sulla squadra la mia personale opinione è che se Diamanti fosse in campo bravo come sui social sarebbe capocanoniere nel suo campionato ma anche in campo non fa gol giocatore che non ci ha dato nulla la mia domanda è perché è Amato? Punto di domanda io faccio la domanda ha dichiarato che non ha mai aperto società in Inghilterra ma nel registro delle imprese inglese risultano tre società alle intestate estinte lo stesso giorno come se lo spiega? domanda cattiva il gruppo di famiglia aveva in programma i progetti commerciali nel Regno Unito e doveva aprire delle punizioni bancarie ecco perché l'apertura e la chiusura sui punizioni mai utilizzati ma per motivi di sicurezza perché probabilmente non hanno ritenuto l'operazione che dovesse andare avanti ma non vedo con l'accento di Col Palermo e cosa gli interessa a questo signore delle faccende del mio gruppo più volte ha dichiarato che quelli che la contestano sono solo 300 tifosi e che il restante 90% della piazza la ama come si spiega allora la fallimentare campagna abbonamenti? la mia risposta è dovete chiedere a voi a chi agita in continuazione nell'ultimo anno contro gli interessi della società che sarà la vostra squadra anche dopo di me la società la squadra è la vostra dei tifosi di quelli che si chiamano tifosi chi vi avrebbe ricostruito la squadra del team tecnico attuale se non ci fossi stato ancora io? quando sono arrivati su a dirmi vattene se fossi andato via chi faceva la squadra? sono delle domande che sono fuori dal mondo con giovani molto bravi di Palermo come Andrea Siracusa il nostro responsabile ufficio stampa e Todaro validissimo team manager Francavilla il nostro medico sociale Sicchera ufficio marketing e altri che non ho incontrato oggi chiedete a loro come lavoro con Zamparini chiedete ai collaboratori di Palermo che lavorano con me come si lavora con Zamparini anche dal punto di vista umano perché in tutti questi anni con i giocatori che ha avuto non ha provato a vincere qualcosa? forse per lei il Palermo è solo un modo per far soldi? questa è la bufala alimentata dall'ignoranza sulla realtà dei fatti tenere il Palermo inseriato potendo due anni è già vincere qualcosa purtroppo per me Palermo è un modo per perdere tanti soldi non per guadagnarli e si vede dai bilanci quando ho incontrato di persona l'ultima volta Frank Cascio quando vi incontrerete di nuovo che percentuale di riuscita dà alla trattativa? l'ufficio internazionale Witters è incaricato dei contatti e della trattativa con gli investitori interessati al Palermo naturalmente con un contratto di riservatezza che mi impedisse qualsiasi risposta credo e spero che la trattativa porti al risultato positivo molto molto presto con quale entusiasmo un tifoso può andare allo stadio sapendo che è stata la cattiva gestione del presidente a mandare la squadra in Serie B? con la stessa che hanno avuto anno scorso i tifosi del Verona è lo stesso che hanno quest'anno quelli di Empoli e Pescara comunque anche anno scorso l'incidenza dell'incassi è stata del 4% circa e quest'anno sarà del 2% sul totale dell'incassi del Palermo importante pertanto non è l'incasso che non cambia nulla al nostro bilancio ma la presenza dei tifosi per incoraggiare la loro squadra da anni si parla di trovare acquirenti per il club per quale cifra venderebbe il Palermo già domani? per me sarà importante la cifra che dovranno investire nel calcio moderno per primezzare servono investimenti che l'Italia ora non ci sono per la mia parte troveremo l'accordo facilmente Presidente Zamparini accetterebbe di cedere il 100% del Palermo e non restare neanche consulente del nuovo gruppo acquirente? vedo il mio scopo è uscire completamente se è richiesto un consiglio da esterno lo potrò sempre dare ma non accetterò manzioni ufficiali diverso è l'opzione di ingresso in società senza nulla pagare a me ma immettendo denaro nelle casse sociali naturalmente non con me Presidente né in mia gestione diretta negli ultimi anni il calciomercato del Palermo è cambiato non sarebbe ora di smetterla di dare fiducia ai suoi consulenti slavi e ai giocatori dell'est vede non so chi abbia alimentato la favola del mio amico Davo Kulkovic per anni sta dando a tutti i giocatori provenienti dall'est all'udinese e altre società europee a me ha dato Traikovic costo un milione valore due milioni Posavek costo 500 mila valore tre milioni Djurkovic prestito un anno uscito Nestorocchi costo 500 mila valore 15 milioni Raikovic costo un milione valore un milione Baloch costo 5 milioni valore 2 milioni all'esami costo un milione e due valore 7 milioni Salai prestito 300 mila persi Giaialo costo svincolato da svincolato un milione e mezzo di valore totale costi 9 milioni e mezzo totale valore a oggi 32 milioni questi sono i giocatori che mi ha dato Kulkovic quelli che ha messo in giro stranamente tutte le migliori squadre europee eccellono perché hanno giocatori dell'est e io dico sarete mica razzisti conoscendo i palermitani no mio padre ha fatto l'emigrante in sudamerica per 30 anni amico in quei paesi di molti siciliani che sono il contrario del razzismo mio padre era operaio non ricco posidente e mi ha insegnato il valore del lavoro della famiglia e della toleranza li ami anche lei anche se sono slavi sono i giocatori della sua squadra molte società quando devono cedere fanno trattative riservate ed in pochi mesi chiudono come mai a Palermo si parla da anni di cordate e nessuno compra vede con il clima che avete creato a Palermo negli ultimi tre anni è molto dura e dopo il blitz della guardia di finanza con grande clamore mediatico ancora più dura ma io sono con orgoglio una persona pulitissima e sono convinto che le indagini in corso chiariranno la mia onestà Lei ha conoscenza del fatto che Simone Lofaso è molto apprezzato dai tifosi? Questo fatto da 1 a 10 quanto può influire su una sua cessione? Vede lo so che Lofaso è amato in quanto anche palermitano chiede a lui se preferisse restarlo a partire non dipende dal Palermo ma dal giocatore per me ormai con la testa lontano dal Palermo e si sta allenando male è chiaro che dove andrà non farà il titolare così come si rimane con grande piacere mio Conte Dino dovrà studare e lavorare per guadagnarsi il posto cosa che non sta facendo Il feeling con la piazza palermitana è ai minimi storici come pensa che si possa ricucire il rapporto tra lei e la tifoseria che la contesta? Ma io non ritengo che sia ricucibile un rapporto con quelli che mi insultano sui social io penso che sia un'informazione giusta che va dato ai tifori del Palermo ai tifori della squadra su come io sto lavorando e ho ricostruito la squadra ho ricostruito il team e come sto lavorando sodo per la loro squadra e ci ho messo soldi dentro anche l'anno scorso e sto lavorando moltissimo con chi è interessato all'acquisto del Palermo e dovrà essere persona che dovrà dare delle grandi garanzie il più felice di tutti sono io se riuscirò a chiudere con i Cassio con i Viola o con altri siciliani residenti in Nord America oppure con investitori così come ha fatto il Milan l'Inter la Roma e il Bologna non è facile non è facile vi dovete accontentare quest'anno se ci riusciamo di tornare in Serie A io penso che ci riusciremo io non so perché a Palermo la vedete così male quando tutti i giornali e tutti gli allenatori danno come Palermo come favorita per la promozione e mi dà molto fastidio però io anche l'altra volta avevo detto che arrivavamo 14 punti davanti agli altri questa volta ho detto 10 lo confermo io penso che arriveremo a 10 punti davanti agli altri spero che se arriveranno i nuovi proprietari a gennaio verranno presi ancora quei giocatori che ci mancheranno invece per la Serie A come ho fatto io l'altra volta quando sono arrivato a Palermo grazie a tutti i nostri spettatori